. Grande fratello VIP, l'importante rivelazione di Ignazio su Cecilia Winsuiden. Il ciclista Ignazio Moser nel corso di un'intervista ha rivelato che sogna il suo futuro al fianco della sorella di Belen Rodriguez. . Eccoci tornati con un nuovissimo appuntamento dedicato a Ignazio Moser e Cancelletto Cecilia Rodriguez, cioè ai due concorrenti più discussi della seconda edizione del famoso reality show Cancelletto Grande fratello VIP condotto da Ilari Blasi. . In particolare il ciclista Trentino e la modella argentina si sono innamorati nella casa più spiata dagli italiani. . Vi anticipiamo che Ignazio nel corso di un'intervista ha raccontato qualche dettaglio sulla sua storia d'amore con la sorella di Belen, e soprattutto ha fatto una rivelazione sorprendente. Ignazio Moser, con Cecilia sogno una famiglia. . La relazione amorosa nata all'interno della casa del GF VIP 2 tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta continuando anche nella realtà, perché sono ufficialmente fidanzati. . Quest'ultimo in questi giorni ha rilasciato un'intervista alla famosa rivista di gossip chi diretta da Alfonso Signorini, inizialmente il Trentino ha raccontato di aver presentato la sua fidanzata e suoi genitori, e ha precisato che suo padre Francesco all'inizio era un po' freddo, ma dopo pochi minuti ha accolto a braccia aperte Cecilia, infatti l'ha invitata anche a sciare. . In seguito il ciclista ha rivelato che in futuro vorrebbe lavorare in televisione, preferibilmente in qualche trasmissione dedicata allo sport. . Per finire Ignazio ha fatto una rivelazione spiazzante nei confronti della sua amata, perché ha detto queste seguenti parole, con Cecilia sogno una famiglia. Ignazio ha portato Cecilia a Trento nel terreno dei suoi genitori. . Come vi abbiamo appena detto Ignazio ha le idee molto chiare, perché sogna il suo futuro al fianco di Cecilia Rodriguez?. . Per chi non lo sapesse il ciclista e la modella argentina anche se in questo periodo sono molto impegnati dal punto di vista lavorativo, trascorrono molto tempo insieme. . 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